Italia Viva, Matteo Renzi, Maria Elena Boschi, la bella visibilità, perché con la nuova formazione parlamentare, il nuovo gruppo parlamentare, presto sarà il nuovo partito, Italia Viva, e Matteo Renzi e Maria Elena Boschi riprendono la bella visibilità, perché sin quando Maria Elena Boschi e Matteo Renzi stavano dentro il PD, in televisione non venivano più intervistati, perché non contavano più niente, erano stati messi da parte da Nicola Zingaretti, ma con l'operazione Italia Viva, attualmente è un gruppo parlamentare, ma presto diventa un partito vero e proprio, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi riprendono la bella visibilità e vengono di nuovo intervistati nelle televisioni, sui giornali, perché hanno da dire la loro, la loro, la loro, relativamente agli equilibri politici e io la notizia l'ho tratta da Il Fatto Quotidiano, perché Il Fatto Quotidiano ci informa, come tutti gli altri mass media, per esempio Maria Elena Boschi è stata nominata, mi pare il capogruppo parlamentare relativamente a Italia Viva e quindi Maria Elena Boschi verrà intervistata come capogruppo di Italia Viva e Matteo Renzi tornerà a essere intervistato come capo politico del partito politico Italia Viva e la bella visibilità, si tratta di visibilità, è un colpo magistrale quello di Matteo Renzi, che sia chiaro, è stato riconosciuto da tutti, che sia da destra che da sinistra, che si tratta di un colpo magistrale e Italia Viva ora dovrà portare via dei parlamentari da Forza Italia di Silvio Berlusconi, non perché Matteo Renzi sia nemico di Silvio Berlusconi, no, no, per il semplice motivo che nel futuro, nel futuro, io Serafino Massoni, nel futuro vedo e prevedo che ci sarà una sorta di fusione tra Forza Italia e Italia Viva, vedo e prevedo, chi lo sa ciò che accadrà, ma io Serafino Massoni vedo e prevedo una tale fusione, perché io sono stato professore di filosofia e storia nei licei, poi preside di ruolo nei licei classici e scientifici e poi anche autore di tutte queste opere, vedete, per cui vedo e prevedo che si fornerà un grande centro con la fusione di Italia Viva e Forza Italia, se non una fusione, una federazione, ok cari amici, bene bene, ma quanto è bella la visibilità, ok, a tutti tanti cari saluti, Serafino Massoni, ok, ok, ok.